Ok, forza, continuiamo con l'obiettivo livello 100 E ora caccia a razza Meglio di no, prima li prendiamo ancora un attimo Perché? Non ti fidi della mia bravura? Esattamente, so già che perderemo un sacco di tempo facendo tentativi su tentativi Sì, forse un po' hai ragione Facciamo un obiettivo semplice, tipo saltare di qui Ok, ok, ci sto Vedi, di questi mi piacciono Semplice senza troppa fatica, tipo corri dietro a un pollo per 7 secondi Sì, anche se preferisco robe più da maga oscura Tipo bruciare la pizzeria con delle lucce Mamma mia, per me invece è veramente dolorosissimo Anche se la missione l'ha fatta fare quello degli hamburger Quindi capisco la guerra In realtà preferisco Indagare nella foresta frignante per il mio obiettivo? Stavo per dire mangiare tutti e due Ma si può fare anche quello Ok, segui quella farfalla, veloce Sì, sì, capo, capito Sembra portare quel cristallo lì Ma come ci arrivo? Ti ricordi di essere in Fortnite e che si può costruire, vero? Ah, giusto, perfetto, obiettivo completato Dai, 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 dai Bene, è ora di andare da Razza Perfetto, tranquilla, l'ho già sfidato una volta Sarà una passeggiata Avrei sconfitto quello normale? Ma non la versione maestro dei glifi Maestro dei gufi? No, dei glifi Sono delle antiche scritture Ah, ok, ok Mi sembrava strano Razza a forma di gufo Non ce lo vedo proprio Eccolo lì Poi Razza, vieni qua Che ti faccio più viola di quello che sei già Oh, almeno l'idea era quella Mi sa che qua andrà per le lunghe Corvino, vai tu un attimo avanti Io devo dire una cosa No, aspetta Dai ragazzi, arriviamo a 15k like Per un nuovo video di Fortnite E mi raccomando Non dimenticate di iscrivervi al canale Attivando la campanella Perché siamo quasi a 400k Tagliamo da poco Dai, dai, dai Gordina Tutto bene? Sì, insomma Dai, forza Adesso lo battiamo di sicuro Però perché Sono già morta più volte Di crimini in Dragon Ball Attenzione, è così Ah, prendi questo Sì, così Dai, non molliamo Ah, è lui che si attacca Con quel maledetto potere Sì, hai ragione Spostiamoci Ah, siamo troppo lontani Per lui Forza, riempiamolo di granate Sì, sì Vai, 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 vai Vai, la possibilità di male Presto Tattica mano Scappa Ok, siamo abbastanza lontani Fammi recuperare un po' di scudo Bravissima Per un pelo Per fortuna che ho trovato anche il medikit Ora sono pronta per il prossimo round Sono pronto anch'io Forza, via Ora basta Mi sono stupata Ragazzi, prendi queste Sì, così Finalmente Ci siamo riusciti Già, meno male Credevo che questo video Starebbe durato minimo un'ora Bene, avanti con gli obiettivi Forza Non dimentichiamoci la missione principale Giusto, hai ragione Forza Ma quale posso fare? Attento Guarda avanti Oh, hai distrutto tutto Eppure ho completato l'obiettivo I miei complimenti Sì, grazie Ovviamente è tutto voluto Ah, distruggiamo sti castelli Ah Oh, calma Gli ho fatti io, eh Ah Ah, distruggiamo sti castelli Grazie Meno male che è per un obiettivo Bene, forza con il prossimo Carino il look da teenager Grazie, anche perché è quello che sono Ma dai Sì, sai Team Titans Ah, pensa a te Sembri molto più vecchio Ah, prendi questo Sì, altro obiettivo fatto Ma perché siamo in risa squadre? L'ho messo io Mi ero stufata di farti da tributo Che esagerata Comunque metto a squadra il normale Ah, ho capito L'hai fatto per l'obiettivo di Neymar, vero? In realtà è perché speravo di riuscire a fare una vittoria reale almeno così Ma pensala come vuoi Tranquilla Intanto metto a posto l'ultimo telescopio che mi mancava Grande, ottimo Ma gli altri non li hai fatti vedere Ah, vedi Che ghiota Mi ce l'ho completamente dimenticato E se a qualcuno servono? Beh, vorrei dire che metterò una mappa con tutte le posizioni di cui hanno bisogno Esattamente in questo momento del video Esatto Probabilmente la staranno già guardando senza problemi Anche perché mo' tornare indietro sarebbe un problema grosso A posto dai, va bene Attento adesso davanti a te Ha! Uh, altro obiettivo completato Stavolta si doveva far fuori i lupi D'altronde era o noi o loro E io tengo la tua vita Non sembrava prima Ma comunque altra struttura distrutta e altro obiettivo raggiunto Sì Bene, bene così Uh, altro obiettivo completato Anche se stavolta non ho veramente idea del perché Dovevamo sopravvivere alle fasi della tempesta Ah, va bene, normale amministrazione No, cosa fai? Non buttarti nella tempesta Sei ancora giovane Tranquillo Sto completando l'obiettivo di costruire all'interno della tempesta Ah beh, cosa molto utile tra l'altro Meglio recuperare un po' di scudo perlomeno, va? Benissimo, obiettivo fatto Ma perché non sono tutti così? Oh, guarda Manca pochissimo, 85 Sì, sì, esatto Parla con quello Ma non mi sta troppo simpatico Prendi esperienza, stupido Ah, ok Allora, sì, sì, sì Ah, fantastico Questa partita si sta rivelando più facile del previsto Sì, è strano Ci sarà qualche problema con i server Abbiamo pure trovato l'RPG leggendario, dai Ma, ma, figurati Al posto di parlare Fai fuori quello davanti Sì, va bene, subito Ah, andato Perfetto, ho lasciato Oh, mamma Addirittura tre armi leggendarie Oddio, non ci voglio credere Adesso abbiamo addirittura un riciclatore Un pompa e uno scar leggendario Beh, a questo punto direi che la vittoria reale non ce la taglie nessuno Non con la mia sfortuna nera Beh, la fortuna è una sorta di magia Ed io sono una strega, quindi Ma, voglio proprio vedere Ma guarda un po' che in uno vi uno Mi devo concentrare Mi sto ancora chiedendo come sia possibile Ecco il nemico Forza Scar, fai il tuo dovere Sì, vittoria reale Non ci credo, è incredibile Te l'avevo detto Ora possiamo anche chiudere il video No, la missione è un'altra Ah, giusto A proposito, guarda Ho appena fatto dei punti distruggendo delle pinetre E guarda un po' Anche sta usando danni con i missili della barca Facciamo paura Ma è quanto cosa tua Quella mette davvero i brividi Attenzione, nemico davanti Ah, prendi questo colpo alla testa E obiettivo epico Sbam Oh, sì, livello 86 Non hai notato nient'altro No, sembra tutto normale Guarda quanti ne mancano Oh, mamma, ne mancano tre Stai calmo, stai calmo, stai calmo No, no, ne mancano due adesso Ah, non ho finito uno, non ho finito uno Ma dov'è finito? Non lo vedo Qualcosa mi dice che in quell'enorme struttura di legno Palesemente costruita da qualcuno Tu stai ragione E vai con la freccia Ma cosa fai? Non buttare dei colpi così Aspetta solo un attimo E fatto fuori Tu, per me, te, in reale Qualcuno mi svegli Deve essere un sogno No, 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 è tutto vero Ma adesso andiamo avanti Va bene, va bene, va bene Anche se sarebbe davvero da chiudere tutto Quanto è un'altra cosa di quelle che abbiamo trovato prima? Intendini quello che mi sono dimenticato di aggiungere? Sì, gli otterrano anche importanti per la trama Eh, lo so, ma ora mi ricordo Ho evitato per evitare di spoilerare cose sulla prossima season Te lo dico io Probabilmente ci saranno degli agli No, 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 no Tantano ti inserito Potresti almeno lasciare qualcosa per chi non le abbia trovate? Certo, tranquilla Lascerò esattamente qui una mappa Per trovare tutte le radio Sono a nord di Fontanza Furtiva A dest di Scogliere Scoscese A nord-est di Foschi Fumaioli E infine ad ovost di Pantano Palpitante Non potete sbagliare ragazzi Ok, speriamo si capisca Adesso mi spieghi cosa ti serve comprare l'arco di Lara Guarda che quei lingotti li ho fatti con il sudore della tua fronte Mi serve per un obiettivo Contrassegnare tutte le armi delle varie navità Aspetta, mi ricordo che avevo già fatto Comune, non comune, raro, epico e leggendario Sono finite? No, caro mio navetto Mancano esotica come l'arco di Lara e mitica Ah, ok, ok Scusa, di esotica conosco solo la frutta Comunque quella mitica dove la troviamo? E lo spiego dopo Adesso dobbiamo fingere danni con la pistola da meno di 20 metri E obiettivo sbloccato Perfetto Anche perché farne una da più di 20 metri con la pistola in realtà è un problema Aspetta, questo è facilissimo Atterno e obiettivo completato Oh, bastava atterrare a Pantano Spettacolo Attenzione, questo è leggermente più difficile Dobbiamo far fuori il corsario cuore nero Oh, cavolo, ci fa la pezzine Tranquilla, delle lucciole Certo, combattiamo un pirata assettato di sangue con delle lucciole Mi sembra normale Io, stai messo una barca di legno Guarda come brucia tutto Oddio, quando fa così mi fa paura Comunque ha funzionato Missione completata Bene, ecco il posto dove troveremo l'arma mitica La guglia Ma ci sono passate un sacco di volte E non ho mai trovato le mie mitiche Aspetta, a parte quando Esatto, dobbiamo risconfigliare la nace E prenditi l'arco, forza Oddio, no Ci metteremo una vinta Ma va, ormai sappiamo come fare Cavoli, hai ragione Guarda, basta sparargli da lontano E ciao Bene, sì Ora contassegniamo l'arco E ci siamo Che questo ha completato Attenzione, ho trovato un forze generale Bene, quindi siamo a 500 Altro obiettivo è andato Perfetto, perfetto Mamma mia Quanti obiettivi che abbiamo fatto Comincio ad essere in stacco Quasi quasi Mi faccio un bel riposino Va che roba Cioè, sono addirittura cambiati gli obiettivi Da quanto è passato Aia, aspetta Facciamo un po' di questo Sì Ho trovato altre mie missioni Forza, bella guglia Eccomi qua Ci sono, seniorita Obiettivo completato Oh, guardala Amma è livello 90 Mi sembra il miglior modo di festeggiare No, io preferisco comunque un pizza party Guarda come è stata quella gallina Ma povera Cosa ti ha fatto? Era un'altra missione, genio Comunque guarda come brucia bene quella casa Sì, vai qui Che piromani Comunque obiettivo completato Quello obiettivo Ok, ho visto uno entrare lì Poccio Voleva fregarci, eh Sì, sì Per fortuna siamo stati più furbi Abbiamo anche completato l'obiettivo Sì, vedi qui Ci stanno sparando Sì, c'è che non mi abboccano i pesci Finiremo noi come pesci Se ci beccano Dai, me ne manca solo uno per l'obiettivo Sì, ed eccolo qui Il livello 91 Si vola Attenzione, abitivo in arrivo Trrr Eliminazione con mitraglietta E obiettivi completati Ha fatto davvero trrr Vabbè, allora io spacco qui E faccio sbam 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 Non fare quel casino Mi dà fastidio Comunque abbiamo sbloccato l'obiettivo Ottimo Scusa, ma tu prima Vabbè, lasciamo stare Guarda, per l'amore della pace Comunque Mi sembra che qui ci fosse un obiettivo Di dare la caccia ai cinghiali Vediamo dove suonera questo qui Bene Speso abbastanza l'ingocchio Per sbloccarne un altro Eh, lascia stare È stato doloroso Comunque Cinghiale trovato Perfetto Dommalo subito Tanto abbiamo già messo il mantello Ottimo Domato E sono anche a livello 92 Tenta quello Ah, prendi questo Non perdiamo tempo Dobbiamo livellare Livellare, livellare Bene Bell'idea venire qui Sono tutti nel recinto E non possono scappare Infatti Fatto Ci siamo A questo livello Bene, dai Mamma mia Che fatica Ma cosa Sei una botte Oh, per te rispetto Ti faccio assaggiare la mia magia No, no, no Ma davvero Perché ti sei fatta trasformare? Serve per un obiettivo Dobbiamo stare vicino ad un nemico Ah, beh Non si sospettirà mai Vedendo una botte che cammina Attento C'è peccato Presto spara Ah, mi dispiace Sei stato sveglio Ma è stato anche inutile Bene Obiettivo andato E intanto crea una pistola E altro ok Sei colpire con l'arco da 50 metri? Anche di più Guarda Bam Arrochi Bene Abbiamo anche accerrato la signora della buglia Era il mio obiettivo Mannaggia Ma ti vuoi fermare? Sto cavolo di pollo Non ti voglio mangiare Stavolta Devo solo portarti a cascina colossale Perfetto Preso Occhio però Che dobbiamo saltare dentro Non semplicemente arrivarci Oppure non funziona Che problema c'è? Adesso salto con questo E Cotto da No, scusa È un'altra skin Ok, sai usare sto coso? Dobbiamo fare un po' di danno Tranquillo un po' l'avevo già fatta Prendi questo tizio Bene Andato Porto Troviamone un altro Ecco la terrata fora sta frignante Sono 96 Manca poco Sono veramente stanco In realtà Mi sono un po' stufata anch'io Aspetta un'idea Ehm Vano Ascolta Che ne diresti Di riposarti un po' Intanto vado avanti io? Sicura? Manca poco alla fine Tranquillo C'è comunque tempo Ok, ok Allora va bene Bene Ciao allora Notte Sì, sì Ciao, ciao Perfetto Adesso facciamo così Prendiamo dei livelli E via dritta Il 99 Ora lo lascio dormire un po' Gli farò la sorpresona E poco tempo dopo Ci voleva proprio Mangiare un altro milione Ciao Corvi Wow Siamo al 99 Ma quanto ha dormito? Ehm Un bel po' Spettacolo davvero Ok, facciamo l'ultimo obiettivo Devi rianimare un tuo compagno Perfetto Andiamo Ma come gli avevo fatto in mente Di venire qui da Lazio? Ah, bella domanda Mi sa che non era proprio Una squadra top Attenzione È una delle nostre a terra È la nostra occasione Via tutti Sono un dottore Lo rianimo io Ma tu non sei un dottore Ma loro non lo sanno Sì E poi finalmente a livello 100 È proprio poco dalla fine Finalmente ci incontriamo Vano Oh, la guardia della guglia Vuoi farmi fare qualche missione? No, io e te faremo l'evento insieme E cambierà tutto Oddio E cosa cambierà? Bella ragazzi Incredibile Ma ce l'ho fatta Sono arrivato a livello 100 Beh, in realtà Voi avete visto i tagli Ma ci ho messo più o meno due giorni Considerando anche che dovevo mangiare e dormire Comunque vi ho tralasciato Gli obiettivi più comuni Basta che seguite questi E qualche kill qua e là E dovreste arrivarci tranquillamente Ovvio poi La maggior parte di voi L'avrà già ampiamente superato Ma non si sa mai Bene Il video di oggi termina qui E noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovo video Pronti per l'evento E ciao Potrei anche fare una diretta Non lo so Vediamo Vediamo Ciao 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 Grazie a tutti.